A quattro mesi dal ritiro della maglia numero 14 dalla storia bianco-rossa della VL, Ario Costa, vecchia gloria della Scavolini Pesaro, nonché presente e presidente della Carpegna Prosciutto Basket, ha ricevuto oggi nel comune di Pesaro il prestigioso premio La Retina d'Oro. Un premio che in vent'anni è finito nelle mani delle eccellenze assolute del basket italiano. Da Gianni Petruccia, Dino Mineghin, passando per Valerio Bianchini, Dan Peterson, Sergio Scariolo, De Ambo di Roga, Ettore Messina, Danilo Gallinari, Marco Bellinelli o Pierluigi Marzorati. Un elenco che si allunga pure a personalità extra basket finendo pure fra alcune delle mani più influenti del pianeta, dall'allora governatore della BCE Mario Draghi a Barack Obama fino a Papa Francesco. Oggi Ario Costa si è aggiunto a questo elenco illustrissimo per i valori etici e sportivi della sua carriera d'eccellenza nel basket nazionale, ricevendo il premio dalle mani degli ideatori della Retina d'Oro, Mauro Ruffini e Giampiero Caneschi. È un premio che ci stava assolutamente, riconoscimento a una carriera unica che è toccata a pochissimi grandi giocatori, una carriera da giocatore ad altissimi livelli con la maglia di Pesaro, una carriera importante anche in nazionale e ora questa bella sfida dirigenziale di presidente della WL Pesaro, che è una storica società, una storica piazza del basket italiano. Orgoglioso ed emozionato, Costa ha ricevuto il premio fra l'abbraccio di tutto il mondo WL, dalla società ai consorziati, per un premio applaudito anche dal prefetto Ricciardi e dall'assessore Mila Della Dora. Ricco di orgoglio, ricco di riconoscimento a quello che io spero di aver lasciato. Io ho sempre detto che ho sempre fatto tutto con grande umiltà, grande attaccamento, grande sudore per stare in questo mondo e se mi viene riconosciuto tutto questo io sono molto contento. Quindi ringrazio Ruffini, presidente della Rettina d'Oro, che ha pensato di darmi questo premio molto importante. Lo dedico a tutti quelli che hanno insieme a me contribuito a raggiungere tanti risultati, quindi prima di tutto i miei compagni di squadra, perché da soli in un sport di squadra si fa ben poco. Ho avuto compagni eccezionali, compagni che sono diventati anche amici per la vita, quindi a loro prima di tutto, ai miei familiari che mi hanno sempre sostenuto e anche a me stesso.